Con un gol della bestia Luca Jan negli ultimi minuti, l'Acqua e Sapone strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia e domani sera se la vedrà con la fail di Eboli. Battuto 2-1 un Kamedosson che si è confermato un ostacolo duro come era nelle previsioni. Era il quarto di finale più equilibrato e all'RDS Stadium di Rimini va in scena una partita molto tattica, tanto era il rispetto tra le squadre di Fausto Scarpitti e Silvio Rocia. Non sono tante le palle gol create, tanto che Ricordi e l'ex Pescara Calcio a 5 Pietrangelo sono insidiati solo da alcuni tiri della distanza. Il Dosson gioca la carta del portiere di movimento per tenere palla, avendo raggiunto i 5 falli a circa 5 minuti della fine del primo tempo, ma una leggerezza dei Veneti agevola il vantaggio dell'Acqua e Sapone. Un tiro di Calderolli viene respinto sulla linea e mentre il Dosson effettua inopinatamente il cambio del portiere, Murilo calcia ancora verso la porta e trova la correzione decisiva di Coco Wellington. All'intervallo Acqua e Sapone, avanti di misura. Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, l'Acqua e Sapone controlla, il Dosson si rende pericoloso su palle inattive, Gia Paviera coglie un palo a 8 minuti dalla fine, a seguito di un calcio d'angolo Rafinha sbaglia un controllo e Azzoni fulmina ricordi, 1-1 e Acqua e Sapone che per alcuni minuti vacilla, ma trova a 100 secondi della fine la giocata vincente, assist di Coco Wellington per Luca Iann che buca Pietrangelo. L'Acqua e Sapone resiste poi contro il portiere di movimento e vola in semifinale contro Eboli domani alle 20.45. Prima alle 16 l'altra favorita, Pesaro, che ha eliminato la Colormax Pescara, se la vedrà col Lido. Stasera alle 20 per la Coppa Italia Femminile toccherà il Montesilvano che se la vedrà col Bisceglie.